Il 13 marzo scorso la chiesa della Madonna dell'Assunta, situata nel centro storico della città di Caltanisset, ha riaperto le sue porte dopo nove lunghi anni di chiusura. Questo luogo sacro, parte integrante del patrimonio immobiliare gestito dal fondo edifici di culto del Ministero dell'Interno, si trova all'interno dell'ex ospedale Vittorio Emanuele. La chiesa era stata chiusa nel lontano 2015 a causa dei danni gravi causati dalle infiltrazioni d'acqua piovana che avevano compromesso seriamente la struttura del controsoffitto e del solaio della navata centrale, così come le volte degli altari laterali. Per quasi un decennio l'accesso al luogo di culto è stato vietato in attesa del completamento dei necessari interventi per garantire la sicurezza dei fedeli. Durante l'ultimo anno il prefetto Chiara Armenia ha dato un forte impulso ai lavori di consolidamento promuovendo una stretta collaborazione tra il suo printendente e beni culturali e ambientali Daniela Vullo e l'allora commissario straordinario Alessandro Caltagirone della locale azienda sanitaria proprietaria dell'area su cui sorge la chiesa. Questa sinergia ha consentito di portare a termine un complesso iter volto a restituire il luogo di culto alla comunità e riaprirla per le celebrazioni religiose. Il prefetto, nell'esprimere grande apprezzamento per l'efficace opera di collaborazione, rivelatasi indispensabile per superare le diverse criticità che finora avevano ostacolato la riapertura del sito, ha sottolineato come l'impegno della prefettura, ufficio territoriale del governo, a restituire all'esercizio del culto la piccola chiesa dell'assunta. Si inserisce nell'ambito di una rinnovata e costante azione finalizzata alla tutela e alla conservazione del ricco patrimonio architettonico dei numerosi edifici sacri presenti nella provincia di Caltanissetta, molti dei quali hanno verati tra i beni del fondo edifici di culto. Grazie a tutti.